Lascerà la prossima settimana, assieme al fratellino, il reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo, al quale era stato affidato per essere inserito in una struttura protetta. Il Tribunale dei Minori di Firenze si è così pronunciato sul futuro del neonato di appena quattro mesi, dimenticato nell'androne di una palazzina di Via Po, nel quartiere di Saione, la notte dell'Epifania. Il piccolo era stato trovato dentro ad un ovetto da alcuni ragazzi che avevano subito chiamato i soccorsi. Il bimbo era stato così portato in pronto soccorso, dove successivamente si era presentato anche il padre, in stato confusionale, ammettendo di averlo dimenticato. Il Tribunale, poi con un provvedimento urgente, aveva deciso l'affidamento temporaneo al reparto del San Donato, lì medici e gli infermieri per giorni si sono presi cura di lui. Ovviamente era scattata anche la macchina degli accertamenti, erano stati attivati i servizi sociali del comune di Subbiano, dove risiede la madre dei due bambini. I genitori, invece, erano stati denunciati per abbandono di minore e il Tribunale aveva anche revocato, con un provvedimento urgente e temporaneo, la patria potestà del piccolo e del fratellino di un anno e mezzo. Adesso entrambi i bambini saranno inseriti in una struttura assieme alla madre. Ovviamente resterà comunque massima l'attenzione sul caso.